Primo cittadino della città di Chieti, eccolo qui, il sindaco, eccolo qui, il sindaco, allora solo qualche istante e credo sia la degna chiusura di una giornata meravigliosa. Allora sindaco, sindaco, buonasera, una grande festa con il patron Trevisan che alla fine ha chiusato dicendo c'è la Serie D, questo stadio ha fatto la storia, ha bisogno di un piccolo restyling. Vado subito con la domanda più difficile della serata. Allora sicuramente faremo tutto quello che è necessario perché questa squadra e questa città raggiunga quelle posizioni che ha meritato negli anni e che deve ancora meritare. Io non sono mai stato scaramantico, però devo dire che la mia amministrazione sta iniziando con i migliori auspici. La squadra del Chieti che viene promossa, i locali nel centro della città da cui adesso provengo pienissimi di persone, ragazzi di qualunque età segnale che la città vuole rivivere. La pandemia che sta per finire e che Chieti ha dimostrato di essere all'avanguardia per il calo dei numeri dei contagiati e dei ricoverati. Non solo questo, come la buona politica vuole, la mia amministrazione che sta continuando quelle grandi opere che la precedente amministrazione ha iniziato come passaggio di testimone e che noi cerchiamo di portare avanti e se non ci riuscissimo nei prossimi cinque anni daremo il testimone a chi arriverà dopo di noi, come ripeto, deve fare la buona politica. Quindi oggi sono felice per l'insieme di tutte queste cose positive e devo dire un grazie non solo ai tifosi ma a tutta la città di Chieti. Sindaco, ovviamente questo è il segnale della ripartenza. C'è una ripartenza economica ma deve esserci anche e soprattutto quella sociale. Lo sport può essere il volano principale per questa ripartenza? È uno dei volani principali. Ci sono tanti step in una società civile. Lo sport è importantissimo. La cultura che porteremo avanti come turismo, turismo culturale, faremo della nostra città un gioiello sotto questo punto di vista e soprattutto, come dicevo poc'anzi, le grandi opere iniziate dalla precedente amministrazione che noi diligentemente con un passo di testimone continueremo a far sì che vadano avanti queste grandi opere e trasformino la nostra città in una città inclusiva, vivibile e non più ostativa. Grazie, grazie Sindaco. Bello questo messaggio del passaggio di testimone perché spesso in politica tra chi va via e chi arriva... Esatto, lei è diverso. Complimenti davvero e in bocca al lupo. Quindi un bel messaggio.